Riparte più che mai l'attività dell'oratorio della Chiesa di San Franco a Francavilla, gran richiesta passato il periodo più difficile della pandemia, tornate a fare anche delle attività in presenza. Sì, è richiesto proprio questo aspetto della presenza. Le necessità ci sono state presentate in più occasioni dai genitori, penso al pronto soccorso scolastico, anche all'accompagnamento pomeridiano, alla socializzazione. Anche i genitori ci chiedono di aiutarli, ancorché indirettamente, nell'opera di educazione e di formazione. In questo dunque l'oratorio non potrà che svolgere un ruolo importante. Qualcuno pensa che l'oratorio sia prevalentemente la struttura, le aule, gli spazi. Certamente questi sono necessari perché in mancanza non faremmo nulla. Però l'oratorio è prima di tutto comunità. Sta a cuore la comunità, è una parte della comunità e quindi è in questo senso che aderiamo, abbiamo aderito senza nessun tipo di problemi. Siamo contenti, soddisfatti. È un'opera di arricchimento per i giovani, per parte loro, ma per tutta la comunità. Io dicevo poc'anzi che una comunità nella quale non ci fosse l'oratorio, ancorché certo non ci sono ovunque le condizioni, mancherebbe di qualcosa, sarebbe un po' più povera. Naturalmente poi c'è una particolarità nell'oratorio che sta per riprendere. Certo che, come posso dire, il bacino di utenza è prevalentemente quello giovanile, i ragazzi e i giovani. Però c'è un'attenzione particolare anche per quelli più avanti negli anni, per gli adulti, per gli anziani. Penso in particolare all'opera dello psicologo. E lì non ci sono, non ci potrebbero essere limiti di età. Ripeto, nel passato l'oratorio ha fatto belle cose in questa comunità. C'è il desiderio di ricominciare e c'è la promessa da parte di tutti, non ultimo anche delle pubbliche autorità, di darci, ovve possibile e come è possibile, anche una mano per riprendere e andare avanti.